Le parole hanno un potere immenso, il potere di costruire il futuro, e tu ti aggrappavi a ciò che diceva Joy con la forza che solo la fiducia può dare. È stata una delle prime cose che ho imparato da te, ci vuole forza e coraggio anche nel fidarsi. E in quel momento ti sei sentita fortissima, pronta a prendere il mondo a pugni in faccia se avesse provato a intralciarti. Eri disposta a tutto per assicurare un futuro migliore alla tua famiglia. Ti interessa cambiare la tua vita e quella dei tuoi fratelli, Gladys? Joy ha usato il tuo nome inglese. Dalle tue parti gli adulti non lo facevano mai. Hai guardato tua madre e nei suoi occhi hai letto paura e sollievo. Avresti voluto dirle che era una domanda sciocca? Chiunque avrebbe risposto sì. Anzi, avresti voluto urlarle in faccia che l'avevi già fatto, che avevi già lasciato la scuola per permettere ai tuoi fratelli di mangiare, che portavi addosso i segni della fame, che le gambe erano stanche di camminare per chilometri ogni giorno e un vestito bello come il suo non avrebbe asciugato tutte le lacrime versate in quegli anni. Invece hai solo detto, yes, my man. Ci pensi mai a quel momento? A quando hai realizzato che la tua vita sarebbe cambiata per sempre. In fondo avevi solo diciotto anni quando sei partita dalla Nigeria. Quando hai abbracciato i tuoi fratelli, quando Bright lo hai stretto così forte da fargli male. E quella notte, prima della tua partenza, hai pregato fino alle sei del mattino con tua madre e le tue sorelle più grandi. Tua madre ringraziava il cielo per quella possibilità e chiedeva al Signore di accompagnarti nel lungo viaggio, di tenerti vicina e al sicuro. Ti ricordi quanti pianti quella notte? Non hai nemmeno avuto il tempo di salutare Robert. Chissà quando avrebbe notato la tua assenza alla Freedom Church. Si è arrivata in Italia nella calma tiepida di Castelvolturno. Torno. Non parlavi italiano e stringevi ancora al petto le parole di Gioi. La fiducia non ha lingua e non chiede spiegazioni. La città in cui eri finita era grande, piena di speranza, come l'avevi sognata. Quando sei arrivata non c'erano domande, solo occhi curiosi. Guardavi i piedi chiusi in scarpe strette, lacci bianchi. L'asfalto grigio è privo di odori. Qui la terra sotto i piedi è dura, hai detto a te stessa. Ancora non lo sapevi, ma con la durezza della strada ci avresti fatto i conti. Ciò che mi terrorizza a volte è la tua età, 18-19 anni. Perché io non riuscivo a immaginarli certi mondi a 19 anni. Ci sono cose che non comprendiamo e altre che non vogliamo comprendere, perché la bugia in cui veniamo cullati ha un sapore migliore. Non posso biasimarti quando hai creduto che arrivata in Italia avresti trovato un lavoro vero. Un mestiere che non avesse lo scopo di umiliarti e denigrarti, di farti dimenticare cosa significasse essere umani. Hai sempre lottato per la tua dignità. Hai lottato fino alle lacrime e al sangue per restare viva. Ma ti hanno afferrata per le caviglie e ti hanno fatto assaggiare l'asfalto. Ricordi quando rispondevi a tono a quei ragazzi che ti infastidivano in giro per Lagos? Stringevi Bright e quasi gli abbaiavi contro. Piegavi il busto e gli intimavi di tornare a casa, di trattare le persone con rispetto. I tuoi fratelli ti chiamavano già mamma perché eri capace di proteggerli e di prenderti cura di loro come una madre. Quando sei arrivata in Italia di quella mamma non era rimasto più nulla. Quante cose mamma non sarebbero andate come avevi previsto.